quella lì come si chiama, quella specie di la panicucci lì, capito? che c'ha i figli a casa e continua a fare questa merda in televisione stavo intervistando quello lì del grande fratello quello lì, troglodita lì quello lì che se non andava là dentro neanche parlava io qua, trombo questa, trombo quella le fidanzate cioè e tutti quanti quelli del del grande fratello, tutti a dire ma no, quello sbaglia, quella sbaglia gente minchia che c'ha 80 anni ma di che cazzo stiamo parlando? mandate a lavorare pezzenti del cazzo Jack vergognatevi vergognatevi se avete un po' di dignità datemi fuoco